Io penso che non è tanto stare qua a parlare di tattica, di cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, penso che l'atteggiamento oggi sia stato un po' così. Già dal primo tempo abbiamo fatto fatica e poi secondo tempo abbiamo sbandato un po' come squadra, come collettivo. È una sconfitta che ci fa tenere i piedi per terra. Adesso per fortuna c'è la partita subito mercoledì e non vediamo l'ora di rifarci in casa davanti al nostro pubblico. Lo diceva anche Mr. Inzaghi, meglio perderne 1-4-0 che 4-1-0. Per fortuna mercoledì si ritorna subito in campo. Sicuramente è meglio perdere una ma prendere quattro gol a me personalmente, come si suol dire, mi girano le balle. Però non facciamo drammi perché abbiamo dimostrato di essere una squadra, purtroppo una partita così può capitare. Loro si giocavano tanto, noi abbiamo un po' subito le circostanze e ripeto, adesso testa mercoledì perché c'è da vincere. Condizione fisica non credo proprio, credo proprio d'approccio mentale ma di tutta la squadra, perché abbiamo già fatto fatica al primo tempo e poi ripeto, al secondo tempo abbiamo preso gol. Forse magari non è mai neanche capitato quest'anno che siamo andati sotto, quindi magari può essere stata anche questa la difficoltà, poi di rincorrere la partita, dove loro si sono chiusi e giustamente ripartivano. Poi noi abbiamo concesso e si sono aperti gli spazi e poi dopo hanno fatto dei gol. Giocare in casa è diverso e ripeto, la fortuna è che dopo tre giorni giochiamo subito, meno male perché aspettare un'altra settimana per giocare sarebbe stato un po' così. Ripeto, non vediamo l'ora perché vogliamo dimostrare che quello che abbiamo fatto finora non è successo per caso. Siamo consapevoli della squadra che siamo e del gruppo che siamo. Ripeto, un passo a passo può capitare, le partite sono tante e sicuramente capiteranno altre partite dove magari saremo un po' in difficoltà. L'importante è non fare drammi perché fino adesso abbiamo dimostrato che siamo una squadra, che siamo un gruppo che sa anche lottare nelle difficoltà, come è successo la settimana scorsa col Perugia. Purtroppo oggi è stata una partita un po' così e ripeto, è capitata e facciamo mea culpa ma testa subito a mercoledì. A parte che sta qua a parlare del rigore adesso è un po' inutile, però il contatto mi sono fermato e a mio avviso il calcio di rigore è stato molto molto generoso, però ripeto sta qua a parlare del rigore adesso mi sembra un po' inutile.